Arriverà a Torino a maggio il Festival Internazionale della Fotografia. 800 mila euro di budget, direzione artistica affidata con bando e un tema, quello del paesaggio che ha attraversato la fotografia italiana e che si vuole riproporre per studiarne la sua evoluzione nel tempo e nelle evoluzioni tecnologiche. Laura Preite. La fotografia è un mezzo in continuo cambiamento, un occhio meccanico che scruta e interpreta ciò che accade. Torino punta su questa forma d'arte e battezza una nuova iniziativa al Festival Internazionale della Fotografia, Exposed. Non c'è ancora un programma dettagliato, ma le intenzioni sembrano delle migliori. Creare un evento internazionale, diffuso sul territorio, in 15 diverse location, che attragga l'interesse degli appassionati e dei turisti che scelgono Torino per trascorrere una vacanza. La presentazione della prima edizione si è svolta in una delle principali sedi dell'arte contemporanea, la gamma. Presenti le assessore alla cultura della regione e della città e partner del progetto, una decina, a coordinare la cabina di regia alla Camera di Commercio. Mi aspetto tantissimo, si chiama Festival, quindi è un evento che coinvolgerà tutta la città. Vogliamo che arrivi anche molta gente da fuori, molti turisti, molti visitatori, molti appassionati e quindi ci aspettiamo anche importanti ricadute per gli operatori del turismo. Exposed si svolgerà dal 2 maggio al 2 giugno 2024. Il budget è 800 mila euro. La direzione artistica è stata affidata con bando pubblico all'olandese Manno Liao e a Salvatore Vitale, artista italiano trapiantato in Svizzera. Il tema è New Landscape ed è legato veramente a quest'idea della tradizione fotografica italiana legata al paesaggio, ma anche con questa accezione rispetto a quello che sono i nuovi scenari futuri per la fotografia, che è un medium in transizione e per noi è importante andare a definire cosa sta succedendo nel medium e quindi cosa vuol dire questa transizione.